Sono iniziate ieri mattina le operazioni di pulizia straordinaria delle vie cittadine e lavaggio dei marciapiedi delle aree centrali della città di Agropoli. Oltre al lavaggio strada effettuato da Sarim, viene effettuata anche la pulizia di marciapiedi e superfici in genere a cura dell'Agropoli Cilento Servizi. È partita ieri mattina da via Pio X il servizio straordinario di pulizia e di lavaggio dei marciapiedi delle aree centrali della città, dichiara il presidente dell'Agropoli Cilento Servizi, Domenico Gorga, anche se non rientra a quale servizio affidato in via esclusiva all'azienda, con il sindaco Adamo Coppola e il direttore generale dottor Giuseppe Capozzolo, abbiamo convenuto di organizzare degli interventi straordinari di lavaggio con i nostri mezzi e con il nostro personale per pulire le superfici dalle macchie di smog, fuligine, deiezione ed altro che non vengono rimosse dalle normali e quotidiane attività di spazzamento e pulizia, sottolinea Gorga. Questi servizi avevano bisogno di mezzi e modalità di lavoro intersectoriali che oggettivamente non riescono ad essere organizzati in un turno di lavoro. Per questo motivo esprimo pubblicamente il mio ringraziamento ai nostri addetti Maurizio Scaffeo, Giuseppe Conte e Vincenzo Manzo che si occuperanno di effettuare le attività mettendoci come sempre il cuore oltre ogni ostacolo, conclude il presidente dell'Agropoli Cilento Servizi, Domenico Gorga.